Tony penso che sia un personaggio abbastanza votato all'eremitaggio per, così, per sua indole. I pezzi di Tony hanno un'immediatezza, un'orecchiabilità che piacciono subito. Tony sicuramente rientra, come tanti altri, in un personaggio di culto. I personaggi di culto sono coloro i quali sono amati da chi sa il linguaggio, chi conosce il linguaggio e non trovano una strada precisa per essere poi affermati a livello popolare. Tony ci siamo incontrati all'inizio degli anni 70. Eravamo tutti e due degli strumentisti di avanti. Questo suono solo era un suono gratificante per noi artisti del blues. Tony è sonato il sax baritone, che è uno dei migliori su sax baritone. Massimo l'ho conosciuto a Montemario intorno al 60. Lui mi aveva visto e aveva saputo io a quel tempo suonavo tutti i toni. Cominciamo a suonare, suonavamo insieme a casa da me o da Massimo. Altre persone hanno detto lui un po' strano o un matto o cose, però è il tonico di Miguel. Lo so, il mio ideale forse era capelli lunghi, un po' scacciato, un po' ribelle, così. All'inizio è stato tosse. Vabbè, poi c'era la musica che ci accomunava. Tony se si fida, si fida. Cioè, siccome è un puro, lui è un puro. Ogni qualvolta guardo il cielo in primavera, d'estate, è bellissimo, c'è un senso di comprensione, di infinita comprensione, di sentirsi, di essere vivo, di far parte della vita circostante. Mi affascinò subito questa figura intensa, con questi capelli, questa faccia un po' da indiano che ci aveva selvaggia. Lì per lì rimasi talmente affascinato e folgorato dalla capacità di affabulare di Tony che quel giorno, mi ricordo, lo passammo senza suonare. In questo posto c'era il Music Inn, un club di jazz dove dagli anni 70 io ho avuto la fortuna di vedere alcuni tra i musicisti di jazz in circolazione in quel periodo più importanti. Lester Gordon, Chet Becker, George Coleman, Kay Winding, Mel Waldron. Tony Formichella fa parte di questa generazione di musicisti che suonando qui comunque ha creato un po' il collegamento e la continuazione tra le generazioni dei musicisti americani e i musicisti qui romani, Mario Schiano con Bruno Tommaso, Tony, Massimo Urbani, Maurizio Gianmarco. Tutti questi musicisti avevano fondamentalmente il Music Inn come punto d'incontro e il folk studio, ex folk rosso a Trastevere. È un personaggio che non è costruito. Tony ha nel suonare una spontaneità, una musicalità, una voce nel suo strumento che tu senti che non sono costruite. Tony non è una persona che si mette lì e si mette a provare col sax per cercare di fare le cose più veloci, più precise possibile, l'intonazione spaccata al millesimo di tono. Forse questo di Tony a volte non lo trovi. Tony suona a seconda degli spazi che attraversa con la mente, che è una cosa importantissima e grandiosa questa cosa. Tony riesce ad interpretare con la sua musica, con il suo modo di suonare, riesce ad interpretare delle cose che forse molti musicisti hanno dimenticato e farebbero meglio a ricordare. Me lo portò il padre, me lo portò, quindi perché voleva imparare il sax. Quindi vabbè, io dissi sì e cominciamo la prima lezione, che noi conosciamo, già notavo che aveva molto a disposizione per questo sax. E quindi piano piano, piano piano, lezione per lezione, cominciando col solfeggio e poi col sax. E migliorava sempre di più, sempre di più. Quindi forse, dunque un po' di anni di lezione, mi dava soddisfazione perché subito, quasi dalle prime lezioni, già dava delle accenalgezze. Lo vedevo alla scuola di Testaccio. Insomma, era allievo, faceva dei laboratori e lui suonava, faceva le prove con un'orchestra. E poi è successo che abbiamo fatto un gruppo e abbiamo suonato per due o tre anni, insomma. Abbiamo suonato insieme. E' stato divertente, è stato fighissimo. Tony l'ho sentito suonare, penso una delle prime volte, al Fonclea, forse avevo, ecco, 13, 14 anni. E Tony veniva lì come ospite. Ogni tanto la sera, forse a fine concerto, c'era un paio di pezzi. E mi ricordo che poi qualcuno registrava ogni tanto e mi tiravo giù i soli di Tony della gelata. Base One è, come dice lui, un progetto di e con Tony Formichella, anche se in verità è praticamente un gruppo, uno staff di lavoro che esegue le composizioni di Tony e cerca di esprimere al meglio ciò che è Tony. Spesso, in tutte le discipline, in tutti i settori, c'è qualcuno che è decantato, amato, apprezzato dagli addetti ai lavori, ma non diventa né popolare né è riconosciuto a livello di massa. Tony Formichella, penso sia impossibile, trovare un musicista che dica qualcosa di negativo a riguardo. È amato da tutti, è amato da persone con una sensibilità armonica, un'intelligenza armonica come Maurizio Gianmarco, come Giorgio Garzone e tanti altri. Adesso non voglio scendere a nomi, insomma, perché rischierei di dimenticare qualcuno. E dunque è un assoluto punto di riferimento per gente, ripeto, di grande ricchezza armonica. Dunque è tra i migliori musicisti di questo pianeta. L'ansia della problematica esistenziale, di vivere, di che fare, chi sono, che sto facendo. Adesso una cosa che mi piace fare è suonare della musica che mi sono trovato a comporre a partire dagli anni 60 fino ad arrivare adesso. Mi ricordo che Massimo Urbani e anche suo fratello Maurizio mi dicevano che Tony per loro era un mito, perché Tony ha dieci anni più di me, quindi dieci anni più di Massimo, che c'è la vita mia. E suonava con Little Tony e anche con Patrick Samson, che fece una famosa hit che era la curva sud della Roma, riprese per molti anni e faceva così. E per loro era un mito, perché sapevano che suonavano questi, lo sentivano suonare passando sotto casa, lo abitavano a 150 metri di distanza e quindi lo ricordavano come un mito. Lui veniva a casa mia, andava a casa sua e si mettevamo a studiare, facevano delle svinghe velocissime, roba che durava un'ora, un'ora e mezza, due ore, senza mai fermarsi. Per creare una situazione, cioè per creare delle idee, per creare qualche cosa di nuovo, no? Ma erano velocissime, una cosa tremenda. E allora io spesso e volentieri andavo a casa sua e lui spesso e volentieri andavano a casa mia e poi tra cui c'era pure un'altra persona che sapeva la tromba, un certo mimmo, io mi ricordo il cognome, tu tu lo ricordi? No, cowboy no, ma è più mio. Io mi ricordo il cognome, io mi ricordo il cognome, tu lo ricordo il cognome, io mi ricordo il cognome, Grazie a tutti